Buonasera e benvenuti al telegiornale RAI della Basilicata. Dunque in apertura i temi del lavoro perché c'è una soluzione per i dipendenti dell'autogrill di Potenza chiuso nei giorni scorsi dopo che Anas aveva dichiarato gli accessi stradali non a norma. Dopo l'incontro in prefettura di questa mattina infatti è stato deciso che l'area di servizio riaprirà a breve. Allora vediamo tutti i dettagli nel servizio dell'inviato. Umberto Vallone. Siamo tutti quanti contenti ma soprattutto noi colleghi siamo tutti sollevati per questo periodo di tensioni. La gioia per aver ritrovato un posto di lavoro che sembrava svanito nei giorni scorsi sintetizzi il risultato di due ore di riunione in prefettura per risolvere l'avvertenza dei 17 dipendenti di autogrill. Struttura chiusa in seguito alla comunicazione di Anas della presenza di accessi all'area di servizio non a norma e della responsabilità da parte delle strutture operanti all'interno tra cui autogrill in caso di incidenti. Una problematica già affrontata ma non risolta in un'analoga riunione l'8 settembre con un intervento decisivo oggi del prefetto di potenza Michele Campanaro che ha chiamato tutte le parti in causa ad assumersi le proprie responsabilità. Una grande dimostrazione di responsabilità da parte dei soggetti convenuti al tavolo devo dire che possiamo anche uscire soddisfatti da questa riunione. Sono assunti impegni ben precisi, da domani apre l'autogrill con l'accesso esterno per il personale e si mantengono i due accessi sull'autostrada con l'impegno della curatela di presentare subito entro 30 giorni il progetto di messa in sicurezza e di fattibilità. Noi vigileremo con un percorso che Su'Eccellenza del prefetto ha dettato in maniera precisa perché dobbiamo sicuramente ridare dignità a un luogo storico di potenza e credo che oggi la vertenza che si chiuda positivamente con la riapertura segni un nuovo passo. Attori della vertenza anche il Comune di Potenza che prenderà in carico la strada che prevede l'accesso pedonale dei dipendenti autogrill anche grazie ai contributi della regione e ovviamente Anas che dovrà valutare il progetto per la messa in sicurezza degli accessi all'area di servizio presenti sul raccordo autostradale.